Quest'anno festeggiamo il decimo anniversario del nostro Stare Insieme come compagnia amatoriale e abbiamo deciso di riproporre la commedia con la quale abbiamo iniziato, cioè Prestami tua moglie. Mantano ormai pochi istanti all'inizio della rappresentazione, è il momento di dirvi qualcosa come sempre a proposito dello spettacolo. I mattatori quest'anno si cimentano in un'opera del teatro comico partenopeo adattata dal nostro regista Gigi Saccone. Due parole sulla trama, siamo negli anni settanta, Camillo per curarsi l'esaurimento nervoso dietro consiglio medico decide di trascorrere un periodo di villeggiatura in tranquillità con la sua famiglia in una località di montagna. Inaspettatamente nella casa di villeggiatura arriva l'amico scroccone Alberto con la consorte. Alberto pur di avere l'eredità di uno zio poco raccomandabile emigrato in America, ha fatto credere a quest'ultimo di avere sposato Lucia, che in realtà è la moglie di Camillo. Le cose però si complicano, ma non voglio aggiungere altro per non rovinarvi la sorpresa. Lo spettacolo è composto di tre arti. Grazie ancora a tutti voi per essere qui con noi questa sera e buon divertimento. Grazie a tutti. 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 Come hai curato di andando anche a tutti e non se lo parla molto. Cammiglio spero che al massimo di parla. Eh Lucido dici sempre così intanto tu 15 giorni che si soppiazza di qua e non se ne manca. E tu gli scrivi questi desideri a nove tempi? Ma che c'entra. Sono cose che si spiegano quando uno sta lontano. Ma potevamo metterli fuori dalla porta? No ma nemmeno fargli tante cerimonie. Io non capisco. Ti lasciavo la casa mia. Le mie comodità. Spendivi il frutto e la peggiatura e venivo qua come sacrificato. E d'altra parte, vedendo che non si erano portati niente dietro, io un po' mi tramontuzzai, perché pensai, va bene, questi si possono fermare un giorno, due al massimo. E' certo che non ci sono portati niente, quello ha il prestito facile. E prestami la macchina fotografica, e prestami il radio elettrico, e prestami questo, e prestami quell'altro, e prestami lo so anche chi le ha vinto. Ci hanno presco l'inganno, tutti quelli sembravano di passaggio. Senza considerare quel milione che ci prestai un anno fa. Di quello non parla noi per più, come se il fatto non fosse il suo. Che ci vuoi farmi? Sono brava persona, sono brava persona, però mamma, non dire. Tengono le tasche vuote. Le tasche, le tasche. Quelli c'hanno la capa vuote, e ne tengono le bottiglie vuote, vedi? Se l'ha prenduto tutto quello? Se le sono scolate. Tu volessi mi dare una pillola? O dottore che dice, quando voi lo vedete citato, dategli una pillola di torno a casa. E ci vorrebbero 48 pilloli al giorno. Poi, ho dimenticato pure le cigaretterette. E prenderle da qui, no? No, sì, passi a vedere. Dimmi dove sono che se le vada per tutte. Le hanno fumate tutte. E sennò come farebbero a buttare cene e morci pure praticamente dappertutto. Troppo da non vede, sono passate le truppe di occupazione. Andrà strellato tutto, andrà strellato. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Scusate, ma è carnevale, ma poi carnevale si stegge l'estate. Eh no, per noi è sempre festa. Noi siamo alla ricerca della felicità. Io invece cerco un po' di tranquillità. E allora Hare Krishna con noi. Grazie, ma? Hare Krishna! No, grazie, io ho già il bisogno di un'orecolare di mio. Ogni martedì la comunione lo faccia sempre. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna. E lì, per amici, andate a domenica di l'altra parte, dì? Ma dai, perché portiamo con noi dal nostro buono. Eh, andate dal buono, via. E non puoi venire nel sudessio? Scusate, avviate, avviate. E non rimaniti a fare l'ombo? Sì, faccio l'ombo, voi potrete venire. Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Ma tu vuoi fare una prima mattina? Sì, fammi una cortesia. Fumo con questo cenere di mano, perché io con tutta questa cenere di sigaretta sto sempre con una scopa a mano. Sto diventando una lezzettina. Lucy, noi però dovremmo cominciare a farglielo capire. Eh, come? Lanciando qualche frecciata. Eh, io ora per esempio volevo prendere una tassa di caffè con un po' di colme dentro e invece niente. E allora lascia la botta fuori, la bottiglia a botta, così capisco che l'abbiamo notata. Lasciamo a botta a bottiglia. Non vuoi il caffè? E lascia, sta bene la cazzo, là. Caterina! E sta lì! Qualcuno deve metter a fare un caffè! Va bene! Eh, finalmente si fa la luce di mio fratello! Mi sei svegliato vecchio porcione! Ma quant'è del po' vai a dormire? Sì! Io a dormire! Luci! Questo si deve svegliare presto, se no che siete venuti a fare qua sopra! Dammi la sigaretta! Ecco! Andiamo! Ecco! Lo vedi? Lo vedi? Grazie! Lo vedi? Tu fumi pure! I tuoi hormoni hanno bisogno di ossigeno, cammino! Esci! Vai! Cammina! Puoi fare l'alto su una pancia? Cammina! Vabbè! Perché? Non lo so! Scusami! Mi sono distratto per parlare qua con il segretario! Cammina! Guarda fuori che bellezza! Guarda fuori! Tutto questo verde! Cammina! Tutta questa cronofilla! Che non ti piace la cronofilla? Che altro che! E allora senti! Senti l'aria! Senti! Cammina! Respira! Profumo di venta! Profumo di pazza! Sì! E allora respira con me! A pieni polmoni! Fammi vedere! Davanti! Respira! Fai! La cronofilla! Aaaaaah! Aaaaaah! Io c'è che ho fastidio! No! Respira da chi! Bravo! Perché tu di queste hai bisogno! Perché tu fai il gusto all'antica! Ma no! Sì! Dammi il letto qui sta a terra! Ma perché a terra? Allora mettilo qui dentro! Sì a terra! Scusami! Ehi che mi scordo! Pensavo a Caminco! Vedi che ciotto malandato! Caminco! Tu fai la fazza di un giorno più gialla! Che aspettiamo che diventa cinese! Vabbè! Io credo che ho bisogno soprattutto di calma! Di riposo! Eh! Di solitudine! E soprattutto! Un bel mero tutto questo licore! Capite? Fa male! E che diamine! Questa io! L'ho comprata solo l'altro ieri! E per questo non devi preoccupare Luigi! A questo ci penso io! E che sei pazzo! E ti posso permettere che tu compri il licore a casa mia! No! E che mi fai? Che devo comprare? Mi fai così caffone! Ma che fasi! Ma che fasi! Luigi volevo dire che non bevo io! Una spugna! Ma lo bevo tutto io! Ma gliene lascia! Nemmeno una goccia sta mascalzone! Capito? Tu provi a mettere un'altra bottiglia là dentro! Poi ti faccio vedere che fine va! Oh! Vabbè! Basta va! Io esco! E Ida non esce con te! E Ida non esce con me! La fine del mondo! Purtroppo per fortuna lo sai che io come un zucchero addosso! Insomma! Che alle donne io piaccio! La fate a chiamare! Se no non si ne va più davanti allo specchio quello! Ida! 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 Iiii! 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 Ma che è in buona mano! No! Noi! Noi! Siamo gente allegra! Iiii! Eccola! Eccola! Ida è qui! Buongiorno a tutti! Uè! E come ci siamo fatte bene! Eeee! Come si dice! Moglie che non si cura! Marico che trascura! Hai una sigaretta? Guardate baccaio! Va bene! Sapete! Comprate un paio di piacchezza per riempirle! Vedete perché sono finite! E secondo te io andavo fino alla tabaccaio per comprare la sigaretta! Amico! Il tabaccaio vostro sei tu! Eeeh! 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 Amico! 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 Phine Anbaliondiano! Amico! Io devi chiedere un prestito! Eh? Eeeh! Eeeh! Guardate che faccia che ha fatto il mio spiorcio! Non ti preoccupare che non si tratta di due. Dovesti prestarmi un pochino la macchina! Ah... E quindi noi abbiamo pensato che se a voi non vi spiace... No, era perché si stia dispiace. Ma noi avevamo pensato di andare... Dove avevi pensato di andare? Ma ricominciamo. Tua moglie ha detto di sì e basta. Veramente vuoi fare il lato sulla pancia? Esci, goditi il verde. Ehi! Puffa! Ora vedete quanto è bella? La vedete quanto è bella? La vedete? E qua tu che cosa vuoi? Tu c'hai il nome Bisilla. Non si può fare troppo, non c'è l'appoggio per la voce. E Camillo sì che è fortunato. Tu sei fortunato, va bene. Tu puoi chiamare Aderi, Esteri, Lucii. Eh, bella da te. E col caffè! E col caffè! Grazie! Hai visto? Ci sono queste damigelle che qua ogni tanto ci portano pure una bella tazza di caffè. Complimenti, è veramente buono. Camillo, a proposito, tu cerca di evitare il caffè. Questo qua è veleno per te. Noi ce n'abbiamo. Ida, andiamo. Mi raccomando, eh. Adesso poi esci, goditi questo verde, eh. Respira la cronofilla. L'aria. Ah! Menta piperita. Palsamo. Respira. Maestro, ma allora dovete venire a piangere? Ma copino una tazza di caffè con lei. Papà, io te l'ho portata. E pure io te l'ho portata. Me l'avete portata tutte e due, ma nessuno me l'ha dato a me. E quelli si sono buttati sopra, che potevano fare, ragazzi? Lucì, voi se vi volete bene, dovete fare qualcosa per me. Quella vita? No! Non voglio più vedere quei due in casa qui, va bene? Li vuoi mandare via? Oh! Papà! E se facessimo venire il canelupo? Stratta zitta tu e il canelupo! Ma hai mezzo parola qui! Ma voi sai che mamma ha paura dei cani e dice un canelupo! Noi ma non abbiamo finito questa storia del canelupo! Eh beh! E se papà non vuole mamma nemmeno come fare e portate l'amore! Anzi, vi fate monache! Monasteri Santa Chiara! E il tuo cuore scuro scuro! No! E quello è l'amico della tua infanzia che mi fa nervosire! Ah! E' meno male che sono due giorni che non si fa vedere la poetessa! E chi sarebbe stato adesso? Come ti sarebbe? Quella pazza sferrata che abitava al piano sopra l'alleggiante quella che ogni tanto mi viene a consolare con le sue composizioni quella specie di rana! Vabbè! Tornando al nostro gradito ospite è da quando ci siamo sposati che lo vengo dentro ai piedi e ora vengo a casa tua e ora mi faccio una fotografia con tua moglie e ora non con le tue figlie e sempre attorno a te! Questo fatto a me non mi è mai piaciuto! Uè Gabi ma tu comunque ce l'hai la faccia e dimmi gente che sei niente! Ma perché c'è una faccia particolare? Alla fine è pure torta! E allora diggielo no! Lucina vuoi chiedere che tu mi conosci eh? Ma allora si nome niente! Se ora che tornano non glielo dici chiara a piatto eh! Lo si! Io glielo dico chiara e glielo dico pure scusa! E io ti faccio un applauso! Lucina li faccio trovare le valigie fuori alla porta! Io li faccio rimanere a bocca aperta! Sì! Che c'è? Sì vai vai Ida vai a preparare le valigie va! Sono loro! Mamma mia sono loro! Avranno sentito! E che ne so! Lui ha detto vai a preparare le valigie! Che figura che mortificazione! Eh? Che cosa dicevi? Li vuoi fare rimanere eh? Ah sì sì! Sì devono rimanere! Non li lasceranno soli in bocca a sta montagna eh! Devono rimanere se no mi offendo! E li faccio trovare le valigie fuori dal letto! Alla porta! Ma che fanno? Stanno parlando con un tizio davanti alla porta! Eh già! E tutti ci vorranno lasciare bocca a sta montagna! Aiaiaiaiaia! Aiaiaiaia! 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 Ehi! Che ti stavo dicendo! Chissà che ci sta pensato! Chissà che ha fatto l'uccella del malavoglio! Ma da chi? Perché? Perché siamo usciti fuori qua dal cortile e abbiamo avuto l'uccella! Con la macchina mia! E allora con la macchina di chi? Aiuto! Aiaiaiaia! Aiaiaiaia! Tu non ti sei fatta male? Certo guarda! E' stato più lo scadetto! Ma certo prima stavo meglio! Gesù! Gesù! E' mia vita! Che cosa? Ah già che posso tutte vacante! E stai riprovando una tazza di camomilla! Lucia dai! Lascia stare! In fondo non ci siamo fatti quasi nulla! Ma a me che ti sei fatta male? Ah la ramba! La ramba! La ramba! Ma tu qua! Ma tu qua! Che proprio adesso viene in cammilla e diceva eh! Chissà che si voglia di fermare! Andare un vado con noi! No! Non ti ringrazio! Ma io proprio questo stavo dicendo! Aida vai prepara le valigie che ce ne dobbiamo andare! E per forza eh! Allora hanno sentito! Dobbiamo fare presto! Dobbiamo fare presto! Dobbiamo fare presto! Non posso fermarmi! Nemmeno un minuto! Dai dai! Non ti stupi eh! Aspetta io ho anche battuto la testa! Tu in foto corrivi come un pazzo eh! Ma allora ma che ti sei fatta? Sai ma! Sì ma non ti preoccupare! Non hai visto come copiare una macchina dell'altro? Oh no! Allora abbiamo vinto noi! Amica mi non scherzare! Io quello che ho fatto è una brutta ammaccatura! A proposito! Tu sei assicurato? No! Allora mi saremmi dovrei fare un prestito! E perché? E beh perché! Perché io almeno 100 milioni di danno a quello che ho fatto! Ora mi ha seguito fuori dalla porta! Dove stare qui! La macchina è tua! La responsabilità è tua! Ecco! Poi tu vai in giro pure fuori ti prendi che mamma sono a posto! Eh! Scusa! Ma perché mi stia salendo la stessa? E perché ti ha letto no? Ma io non li ho preparati ancora! No no Luigi ti ringrazio! Non mi esiste perché noi ce ne dobbiamo andare! Non posso fermarmi nemmeno mezz'ora! Ce ne dobbiamo andare forse! Ma io non ho capito! Cosa è stata l'introvisione? Luigi io in città c'ho gli affari miei! Secondo me? Sì! E poi come si dice? E l'ospite com'è il pesce? Dopo quindici giorni puzza! No! Inventare il proverbi dice dopo tre giorni! Ci sono due proverbi! C'è quello del pesce fresco e quello del pesce sul gelato! E comunque non insistete perché noi ce la dobbiamo andare per forza! Ah no! Sentite! Lo so! Lo so! Guarda che forza che stanno facendo! Voi rischiamo! Sennò non esistono! Vabbè sentite una cosa! Se proprio insistete che proprio ci tenete talento! Che non rimaniamo! Se proprio proprio insistete! C'è la soluzione ci sarebbe! E se dipende da noi cosa ha fatto! E' vero? Capito? Diciamo di sì! Fratello! Sorella! Ah! Ah! Ma forse è meglio se si fanno a casa loro perché se si è rotto la porta in questa casa! No! Niente! Questa qua è una cosa da niente! Volevo dire che se proprio tu vuoi che io resti... Che ha già fatto? Mi devi fare un prestito! E questo già me l'hai detto! No! Quello è assusato! Mi dovresti fare un altro prestito e un buio più grandicello! Vabbè! Ma tu voliste tutti i vendi e non stavo giù dal casamento! Fratello! Sorella! Io con voi mi apro! Appena siamo usciti qua fuori con la macchina abbiamo incontrato un creditore che avanza una cambia dei 200 mila lire da me da più di un anno! Io quando veniva a casa mia, a casa mia, non mi facevo trovare mai! Lui veniva, ritornava, non mi passava mai per la testa! Pensava che io abito al quinto piano senza ascensore! Potevo mai immaginarlo quello che mi venivo a trovare quassù! E a far finire teoremente le vuole sicuro a lui! Io perciò me ne volevo andare! Ma ora è diverso! Non avevo la testa niente! Quale paese piccolo Camille! Quello mi trova! Ma adesso che tu mi vuoi dare i soldi che mi ripeste io li posso sbattere sul muso? Io ho l'amore mio! Siamo felicissimi per rimanere! Vero Camille? Benissimo! Camille hai capito? Restano! Tu che felicità! Camille, Camille! Ma vuoi mettere una soddisfazione adesso che gli posso sbattere le 300 mila lire sul muso Camille? Ma non è nel 200? E gli interessi? Dopo più di un anno! Camille, quello è uno stroziero e un usuraio! Che ti pare che sono tutti curati come te? Comunque io qui 300 mila lire sui due piedi non te li posso dare! Camille! 400! Ma tu avessi dato gli interessi mentre ho parlato! No! No! Per semplice ricordo ci sarebbero le 100 mila lire pure di quello qui della macchina! Comunque io questi soldi appresti non me li trovo! Ma perché prima che ci sono? E tu mi fai un assegno dove hai la firma che parla! Mi fai un assegno quello che accetta e siamo a posto! Ah! Finalmente! Bene! Adesso che siamo tutti tranquilli che abbiamo disteso i nostri nervi vogliamo anche un po' distendere i corti se tu facessi piano piano di lei presto presto però io mi andrei quasi quasi Ve li faccio subito! Grazie! Ecco! Anzi aspetta che vengo pure di là pure io! E li faccio accoggiare io! No ma ci hai garbo! Tu lo hai garbo! L'infermiera di lei è questa! Sor ella Lucina… Ma che moglie che ha? Che moglie che ha? Which è la favob-mette? Eh! E' per la moglie di Al-berzo! All'amuggiente con la mia macchina stando la dentro… Aspetta I sarino, aspetta! E' meglio che gliela porti la mamma mia, come spetta qua, molto perfetto. Fratello, sorella, anche la capovilla. Oh, stai alla finestra. Sto dove in per me? Sto che? Stasera o domani viene pure a fare visita a papà. Sì, e viene per me. Ma dimmi la verità, Tassana, è proprio una dichiarazione. Non fatti me. Ah, mi credevo! Appena fatta. E' un po' di me. Buongiorno! Oh, mi avete spaventato. Tanto che sono brutto. No, è che siete appassi alla finestra, con un lato, come un angelo. Sentite un po', signor Luigi. Dite, dite, qualunque cosa vi serve. Io sono il maschio del paese, c'è pure il fucile e il cannelupo. Signor Luigi, ma questo signor Luigi, come impegnatino, mi posso chiederti? Ma mi fa piacere. Gingino, sentite, ma stavo provando io. No, io vi volevo dire che a me mi potete chiamare Carlo. Gatti, hai. Eh già, è diventata rossa. E si chiama Raterina. A me, a me i famigli mi chiamano Gingillo. Oh, Gingillo, com'è cazioso. E io mi chiamo Raterina. Come potrei chiamarlo? Est. E poi sembra la rosa dei venti. North, sud, est. Sì, va bene, lasciamo quella. Gingillo, sentite, dunque. Ma mamma, come sta? Oh, bene, bene. E il cannelupo come sta? Oh, come sono contenta che vi interessate nel mio cane. Sta qua, nei miei piedi, lo vedete? Ah, sì? E poi dice che non viene a capa posta. Oh, povere testoline. Come vi dispiace che poi colpa mia vi siete fatte male. Aspettate, mi devo far perdonare. Aspettate. Adesso sei contenta? E tu sei felice? Vieni, esperiti. Coppa. No, no, no. E vediamo se la finiamo con questa storia di infermiera. Aspettate, non venghi a parlare. Fammi fare prima la lavandaia. Voi venghi a farci i miei conti. E vediamo i miei conti. Vediamo tra me e te. Qui. E che cosa mi hai lanciato? Ma, ma non ho oltre. E chi è questo gentile vedendone? Ah, chi è? In casa non abbiamo niente, siamo poveri. Ma non mi spaventate, non sono un lato. Io sono il maschio del paese. C'è il fucile e il cannelupo. E scusate, perché girate con il fucile? Perché vado a caccia. E che c'è stato a cacciare in questa casa? Io non gli ho fatto pure offesa, vi ho lanciato delle rose. Ma è un'usanza del paese. No, no, è un'usanza mia personale. Sentitemi, dovete fare una cortesia, eh? Oh, car! Oh, car! Non si spaventate, ma non fa niente. Chiaramente, mia moglie si mette paura dei cani. Ma non fa niente, è buono. Stendite la mano fuori dalla sinistra. Vi dà la zampa? Io te lo do la mano al cane. Ma perché? Non ci credete che vi dà la zampa? Ci credo, ma non voglio vedere. Si chiama Alicifero. Non lo voglio conoscere. Ma è buono, non fa niente. Questo non è un cane, è il mio fratello. E ci credo. Forza, non state della mano? Eh, sì. Ci credo che dà la zampa, ma non lo voglio vedere. Allora, se devo tornare a trovarmi, lo devo lasciare a casa. Sì, e rimanete a casa pure voi. Ma voi perché dovreste venire a trovare? Ma perché siamo vicini. Io sono dal paese e voi siete le vileggianti. Ma qua le vileggianti sono venuti qua per curarmi i nervi. E adesso, se permettete, io voglio chiudere la finestra. Giù lo scelgoci, magari. Una porta, una porta. Una porta. No, e se forse vuole il caderno buco? No, no, no. Caterina? Esterina? Ah, ma non mi sei niente, eh? Non lo conosco nemmeno. Chiedi spiegazione alla maestra, là? A me? Ma di che cosa state parlando? Io vi ho chiamato per aprire la porta. Sentite che stanno bussando? Vai, vai. E perché ti hanno a parare, sì? E perché tu sei zampa? Uè! Iplicatevi se novi per prendere schiaffi a tutte e due, eh! Sarà quello del caderno buco. E poi, cos'è stupidienza? Oh, le maniere forze. Oh, le maniere forze. Era il mostino. Ho portato una lettera per il signor Alberto. Ah, va vai. Poi c'è anche la signorina L'Urezia. No. Quella del piano di sopra. No, signor L'Urezia. E' il mosso tutti fatti tuoi, oi? No, no, no. Signor Camillo. Signor Camillo. Bonjour, signor Camillo. Ma come sta? Mi l'hanno lasciata da sola. Magari, magari. Lo sa perché non sono più passata a salutarla? Temo di immaginarlo. Mi ho scritto e ben anche due. Scommetto che lei è ansiosa di ascoltarle, eh? No, grazie, cara professoressa. Oggi non è giornata. Maestra, signor Camillo. Mi chiami. Maestra. Eh sì, me l'avete detto altre volte, ma era assolto con i miei pensieri. Allora, si ricorda come si chiama l'antologia che sto scrivendo? No, no? Eh, no, non mi ricordo. Ve l'avete detto, ma non mi ricordo perché sono strato. Note, monsieur. Note? Ah, no. No. Note dolenti. Liriche. Sono poesie. Liriche. E quindi, note liriche. Ma per voi saranno note liriche, ma per me vi assicuro che sono note dolenti. Apprezzo molto la sua verba. Ma avanti, su. Non ti faccia fregare. Non lo faccia. Beh, io. Devo avere il suo parere. Ma io ci tengo. Allora, la prima, il titolo. Si, mi fa. È una specie di melodia. Ma bian sure. Signor Camilo, sono poesie liriche. Ascolti, adesso non si distraga. Si. 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 Mi fa. È una camicia. Si, mi fa. No, è no. Tu non c'è un po' Si. 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 Si, mi fa schifo. Questo posto. Si, mi fa schifo. Tutta quanta questa gente. Si. Mi fa schifo tutto quanto. Mi circonda. Si. Mi fa schifo. Questa vita. Beh. E' arrivata. Lei che è qualcosa. Di forte qualcosa che colpisce come un pugno nell'estomaco. Signorina, potete sapere la verità? Eh, sì, signor. E' un po' Sì. Mi fa schifo. Lo sapevo. Lo sapevo che avrebbe colpito nel segno. Ma adesso ascolti quest'altra. E' come dire... Sì, 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 sì. Un po' più intimista. Il titolo? Sì. Sì, l'adoro. No, grazie, cara maestra. Le cose intime vostre. Ve la contattività. Una volta abbiamo detto. Adesso non è giornale. E poi aspettiamo. E' da bene, da bene. Sarà per un'altra volta. Oggi io vi grazio. Ma il signore Lucia non c'è voler invitarla a venire con me al circolo a farci una canasta. Non credo proprio perché in questo momento si sta facendo una catasta di panico. Figuratevi se si fa un'altra al circolo. Ma Lucia, si tratta soltanto di un gioco. Ma per voi sarà un gioco. Ma Lucia quando si fa una catasta di bucato senza lavatrice, si accida. Arrivederci, signore. E allora au revoir, monsieur. Camillo, a tutti a l'heure, monsieur Camillo. Si, 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 saluto ma solo. Allora, Lucia l'abbiamo lasciosa. La pazza l'abbiamo lasciosa. Siamo a tre questa mattina dovremmo essere a posto con me. Ia, fanno la buu, 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 che non ci sono quei due o tre vedi e ti posso rispondere. Un'altra volta che fai lo scelgo, come hai fatto prima lì dentro. Io mi faccio i balicchi e ti lascio a te, a montagna, le saurimende del vostro. Me ne vado a giugno e mi faccio una bella manzera qua qui su. Ma perché che ho fatto? Eh già, io poi ti sopportavo da trent'anni e non ti conoscevo ancora. Camillo, certe guardatine, certe risatine. Io le capisco. Ne chi le smette a fare buu, giù, giù, giù. Ma come facciamo sentire queste discussioni davanti alle ragazze? No, voglio far sentire, voglio allucare. Nei deficienti, invece, ne credi lo va dentro a te matricolato. Non ci prendiamo i complimenti, giù. Ma come dover niente? Ma perché mi hai pigliata? Io sono una bellina onesta. Ma, maizio, io non posso dire che tu l'invermiera tollerata non la devi fare. Niente, non devi dire niente perché se no faccia la pazza. Mamma, calma. E non mi riesce che calma. E pigliate la pillola, le vuole tanto guarda bene. Ma insomma, vuoi che finisci? E mi sei visto che non è meglio. Guardate, guardate, se no me lo sei passato di timbolo. Volete vedere che mi metto a gridare per tutto il paese? E posso riportare al manicolo? Ma perché questo che cos'è? E allora abbiamo le finestre, così mi sentono tutti. Tu stai fermi, non fanno niente sporeglie. Quella finestra deve ripenere chiusa, se no arrivano le rose. Quei hai cucciato le rose? Ma le rose? Ma lì, dica. Ma la busta finestra può darsi che vogliono dire qualche cosa pure a me? Uè, io sono una donna facile. Chissà se mi diranno una rosa? Eh sì, toglie, la trovi io, la rocina. Sente, buttate, questa è la casa delle rose. Portate. Ma è triscia, ma è triscia, che sta triscia. Ale, 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 rama, 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 rama. Ma voi siete di nuovo qua? Ma che so' riconosce? Ma che li conosce? Secondo me ci sarà un cifo qua vicino. Sì. Ma non so pagliare. Ma no, mamma, sono i giancioni. Sono una setta di ragazzini. Ma chi li ha fatto il troppo? Ma dai, cantate il mano insieme a noi! Sì, 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 cantate per tutti i murgi e i morti, va bene! Ma tu hai scattato una cattiva! No, quella è l'anatico cattivo cattivo! Ah no, ditele! Erba! Tanta erba! Ma che ci hanno fatto una pecora? Ehi, sai perché sono venuta qua? Perché sono una scema! Vabbè, non ci devo fare la scema! Ehi, sai perché sono venuta qua? Perché sono una scema! Vabbè, non ci devo fare la scema! La scema è una drammatica! Va bene! Ti chiedo scusa! Ti chiedo perdona! Basta! Ui, e perché ridete? Ci sono queste due che dallo gruppo! Ti rispetti per quanto riguarda! Se lo vorrei spiare, eh! Questo lupo come se ne sono poche! Una colonna! Mamma, ma io... Basta! Non voglio sentire più niente! Oh! Non me la prendete! Non me la prendete! Che fa qua? Già lei sa me! Ce lo dobbiamo tenere così poco! E grazie a te! No! Non voglio restare qui! Voglio solo stare qui! Come in questo momento! Questa calma! Questa pace! Questa serenità! La prendete dopo la tempesta! Per tu le tu mini stas? La paledizione! Allora Plme! ... s'ho ruivato! Ai, ai, ai... ... vai, ai, ai... Ai, ai, ai Ma cosa si deve girare? Dai, ai, ai, ai... Ai, ma cosa si deve girare? Vai, ai, 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 ai va! Ah, la gambe è venita!! Ai, 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 ai che succede Ok, ens ci sono i due! Diense, beh Diense è stato tutto le succede! Ah, tutto ce le tien! C'è qualcosa del latte!! Diense! Hai, hai mi transformations! Lo vi prendete niente io sono justrutto, sono rovio Non posso portare alla gamba? sono peggiorno ma ferma di un po' bello ma avanti parlando parla ma forse è qualche cosa che non vuoi dire davanti a proposta hai l'alba hai l'alba sono distrutti sono fuori di mano ma che ha detto? ma è una lettera minatoria no anonima no qualche apprenditore? no signore Alberto qualche ricattatore? no 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 vabbè ma ti faccio da scritto chi mi ha scritto? mio zio Alfredo tutte le mie speranze erano riposte su di lui e ora sono distrutto sono rovinato Alberto ho capito è morto e non ti ha lasciato nulla è morto peggio peggio è morto peggio dai 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 i soldi miei sono sudati e li tengo conservati con la naftalina. Sai che puzza, vai avanti. Ma tu con il matrimonio che hai fatto sei stato capace di pregarmi perché tua moglie mi è sacra. Io? Ma io non lo conosco nemmeno. E vai avanti. E' che dobbiamo guardare dentro. Ti abbraccio e ti abbraccio. Art vai lì dietro. Tu mi chiedi un altro lavoro. Art vai avanti. Esteri, vieni qua. Guida tu, che a me è il tratto. Il giorno 30 di questo mese scendo dal cielo. Ah, si butta col paragattuto. Il giorno 30? Mai domani! Scendo dal cielo con l'aereo. Poi prendo il corriere e vengo da te. Il corriere? Vieni a prendere il giornale? Sì, il giornale, il corriere, la corriere, non c'è? Quella italiana lo scrive bastardo. Vengo da te, sulla montagna. Ma allora vede capo. Allora te lo indirizzo io. Mi trattengo tre giorni per un affare che devo combinare. In questi tre giorni vedrò di sistemare la tua situazione delitosa. Alla mia morte poi avrete la mia eredità che sono meloni e meloni. Meloni? Ma perché vuoi melonare? Melonare? Milioni e milioni. Milioni. Ah, che bella cosa. Io sto bene in salute. Ti abbraccio, ti bacio, zio Fred. Eh beh beh, ma come viene zio Fred? E tu sai, è così. Alberto, ma questa è una lettera da farci festa. Sì, sta zitta. Ma questo che ha scritto io sto bene in salute? Oblino favorito, zio. Ma no, ma io lo conosco, eravamo vicini di casa. È una brava persona. Una brava persona, è bello, ve lo zio Fred. C'è il dire, un grandissimo pezzo. Allora, pensate che convinto che io, io sono buono soltanto a fare debito e guai. E io. Ma guardate che fissaggio. Ma scusate, se ci viene tanto per vostra moglie. Eh, mia moglie, mia moglie è qua, è una tragedia. Ah, questa è bella. No, questa è brutta, prontissima. Fratello, sorella, è il momento, l'ora della confessione. Alla, figliolo. Non scherzare, Melo, prestami. No, prestami attenzione. Anzi, prestami attenzione, prestami attenzione a tutti quanti. Allora, il guaio è che mio zio sa che mia moglie non è mia moglie. Perché sa che mia moglie è la moglie di un altro che non è mia moglie. Capito, capito, cerca di capire te questa cosa e poi me lo spieghi a me. Allora, è più facile. Allora, guerra da qui. Mio zio sta in primaria. Arrivano le pallotte tutte le palle. E la bevana, 6 gennaio, la bevana gli porta una pallotta qua nella spalla e non cade ferito. A me. A me. A me. Che bella fine che mi abbia fatto. Gli avrebbero dato pure una medaglia d'oro. E tu te l'hai impegnato al mondo di pietà. A me. E invece no. E invece no. Un buon militone. Che non si voleva fare. E non si aveva fatti suoi. Lo prese in sangue. Lo trasportò. E lo portò in sangue. Ma io non lo trasportava. Capisci? Il destino. Fu colpito da una pallotta e cade per terra. Stranazzò allora mio zio. Sighino. Lo tastò e disse. Fratello. E' un vizio di famiglia. Fratello. Non morirà ancora. Io vedevo la vita. Che cosa posso fare per te? E quel poverone dice. Guarda, io ho una figlia. Che non sa che io sono il padre. Che ho avuto una relazione con una vedola. E così così abita. Così così. E tu lo raccomando. Praticamente l'hai capito? Gli raccomando la figlia. Il mio destino praticamente. E' legato a tre palle. Tre palle. Ma tu Alberto. Una a tuo Dio. E una a compilitore. E poi c'è la terza palla. Quella che ho raccontato allo zio. Dicendo che aveva sposato la sua protetta. Alberto. Hai fatto questo? E che cosa potevo fare per avere qualche soldo? Lo zio quando tornò alla guerra. Sparò un creditore. E scappò. In America. Si mi salta il camister. Fece i milioni. E io per avere qualche soldo come dovevo fare. E adesso perdo tutto. Perdo le vendità. Sono nominato. No. No. Io mi sparo una palla qua. Faccio il poker di palle. E la giro con dei stritti. Sì. Va bene. Va bene. Va bene. Ma se si tratta di tanti milioni. Si può inventare qualcosa. Io non lo so. Ma io... Sarà l'uovo di colombo. Ma io un'idea ce l'ho. E che c'è? È un momento. È un momento. È un momento. Il zio quanti giorni si deve fermare qua? Tre giorni. Eh. Quelle c'ho da fare. Le rapine. Le estorsioni. È facile. È facile. È facile. È facile. Si chiama questa signora? Si. La si va a vendere qua. E diciamo... Che diceva che è tua moglie. Bravo cammino. Bravo. Stavo scopato. Ti stelgo già a Elia. E io dove vado? Ecco tu resti qua. Fai i servizi. Fai la cameriera. Così finalmente favo anche servizio. Ma scusate. Ma voi scherzate. Ma voi pensate che veramente questa signora poi si presti a fare... E che diamone? Quella è un'eredità. Sono centinaia di milioni. Ma scusa Lucideff. Fate la sua marita e gli dico prestami tua moglie. Ma c'è. Ma c'è. Sapete. Ma che stanno questi di a me? Eh. Non so che mi vogliono scherzare eh. Quello poi magari... Cos'è il mio amico? È il mio amico. Ma noi c'è un amico fraterno. Fraternissimo. Fraternissimo. Eh o no. Ma sta scherzando. È quello che magari pensa che davanti allo zio Fredri ci scappa un bacio, un abbraccio, una cosa... Eh che diamine. Che diamine. Ma tu fai come gli attori di vecchia scuola. Tu l'ave mai fatto il sito Dramacco? No. Vito vieni qua. Vito vieni qua. Adesso ad esempio io abbraccio tua moglie. Ma che c'è? A te sempre che io abbraccio. Ma il contatto non c'è. Ma non mi pare che c'è. No. Io faccio un semicerchio col braccio e tocco appena appena con il dito sulla spalla. Vedi? Capito? È facile. Aspetta. Aspetta. Fammi vedere un attimo. Scusa Luigi. Vediamo se ho capito. Quindi praticamente io che vorrei fare. Che faccio questa cosa qua e poi praticamente... Quello dove va? Eh 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 eh. No. Tu fai il semicerchio e troppo scuola. Adesso però tu fai il braccio a tua moglie. Ma il contatto non c'è. Io faccio il pollice. Vedi tutto avanti col semicerchio e pollice. Semicerchio e pollice. Sai che è diventata abbastanza. Ma sai bene che mi si ingeni eh. Eh lo so perché io devro farti la roba. Allora forse diamo questa giornata. Guarda qui. 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 Ma perché mi ricordatevi una cosa eh. Ricordatemi che me lo avete consigliato voi due eh. Mi dovrai ringraziare per tutta la vita. Guarda qui. Guarda qui. Guarda qui. Guarda qui. Guarda qui. Cammini, resta di tua moglie, ma me lo stai scherzando, non sto scherzando perché la figlia del compilitone di mio zio era Lucia e questo lo zio vuole andare a abitare vicino a me, Cammini, fratello ti prego, resta di tua moglie, come te, come te? Capite il fondo? Ti mi ha giudato e le pellecce? Eh, papà mio! E' papà! Sono tutti in famiglia, ci marcano! Ma come ti fanno a venire in testa e cerchi i denti a credinare, visto lo stomaco che partecipa a mezzo! Vabbè, ma se una cosa più semplice noi creiamo complicazioni! Ma se avete trovato l'uomo di coloso? Il coloso l'hai volato e l'uomo non lo fa! più semplici ancora diciamo che la tua moglie si chiama Lucia e non vediamo tante condivisione non è possibile non è possibile la conosce ma sono passata di tanto che non si può ricordare di me io sono cambiata io la bugia l'ho coltivata bene vi ricordate tutte quelle fotografie che mi fai fare con te il giorno il tuo matrimonio vestito da sposa? e come se non mi ricordo non fu capace di farmi una fotografia con mia madre io le mandavo tutta a zio Fred mi diceva a zio Fred qua siamo io mia moglie e il compara mi dicevo che voi le compara poi ricordate che mi feci anche fare delle fotografie con te da sola e anche con le ragazze da sola e ogni volta lo zio mi mandava qualche cosa per il battesimo qualche cosa per la crespa per la comunione a Santa Lucia io ho un regalo favoloso un regalo a Santa Lucia povero zio Fred ma io non ho già visto un po' come te lo davo? come te lo davo? quello è un segreto e adesso quello mi disereta perdo tutto divendo povero capisci? tu mi fai vittore allora facciamo una cosa facciamo quella di bella facciamo quella di il semigetto è un po' il semigetto è un po' il semigetto è un po' interviene vieni che lo vuoi e mo che vuoi fare? hai cacciato il cuore e mo ci mangiamo una bella frittà vedi me la rifacente che vuoi fare? prendi la caffetta capisci? se lo vedi io lo voglio per favore uedi da te che vuoi fare? c'è io ho capito questa è la congiura per mandatemi la mani pochi eh tirando qua per curarmi i nervi capisci? luci io me ne vado io me ne vado da qua e io non lo faccio passare? si e io me ne esco dalla finestra va bene? ehi ehi caro finestra ma portatemi al marinome questa gente tranquilla di voi io ragionevole alegrinità finita 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 grazie